Ferrari, mamma mia, c'è la Ferrari Allora, partiamo col circuito di Monte Carlo Formula 1 Lo prendiamo qua La scelta che ci porta poi al casino Privato Parliamo tutto il giro Per farlo scelta adesso la curva Parliamo all'hotel Casino Feldman È il casino privato di Monte Carlo Ogni anno cambia nome Andiamo in Cuba Le auto di Formula 1 arrivano veramente Prima cercano di sorpassare l'interno Come feceva il neve Ma difficilmente altri cantieri riusciranno Questo è il famoso muro dove molti ci si piantano E arriviamo in prossimità del tunnel E abbiamo una bella Rolls Credo che sia con la bionda di stamani Ok Prendiamo il tunnel Il tunnel invece viene Chiudetevi i timpani ragazzi Ah, vackera Siamo a questo punto alla chicane che viene riproposta quando c'è il Gran Premio, adesso ovviamente non la faremo, andiamo dritti verso quella che è conosciuta come la curva del tabaccaio. La curva del tabaccaio che viene presa in seconda, dove una volta c'è il tabaccaio, ma adesso c'è, come potete vedere, un caffè e qui ci sono tutti gli yacht che quando c'è il Gran Premio guardano le propiette gazzine e le auto sprecciate. Non sono questi ovviamente, ma sono yacht molto più grossi che ormai c'hanno in un periodo. Qui c'è un'altra chicane. Arriviamo alle piscine. Non si vedono perché siamo bassi sulla macchina, ma potete vedere gli alberi dove vengono messi le bandiere e siamo alla comando. C'è un'altra curva e controcurva abbastanza.